Approvato a maggioranza dal Consiglio regionale il pacchetto delle norme finanziarie proposto dalla Giunta De Filippo per il 2011. Il totale delle risorse disponibili è di circa 3 miliardi e 600 milioni di euro. Il Presidente della Regione, Vito De Filippo, nell'illustrare in Consiglio la manovra di assestamento, si è soffermato in particolare sulla voce più consistente del bilancio regionale, la sanità. Abbiamo improntato la nostra azione alla prudenza, l'efficienza e la responsabilità, ha detto. Abbiamo introdotto una norma importante, non per la salute dei bilanci, ma per quella delle persone. Niente ricoveri per acuti in ospedali distrettuali, in strutture che non abbiano rianimazione ed utic. Per quanto riguarda i ticket, abbiamo dovuto prendere atto che il ticket sul codice bianco all'ospedale è una misura imposta da una legge nazionale insuperabile, mentre per gli altri amplieremo le esenzioni per i redditi bassi. Abbiamo finanziato lo sconto gas per le famiglie più a basso reddito e il fondo di coesione per i piccoli comuni. E per accompagnare la ripresa, il Governatore Lucano ha parlato di una mini-agenda da mettere in campo già a partire da settembre. Sessioni di lavoro approfondite sul piano infrastrutture, sul memorandum sulle estrazioni, sul protocollo di intesa per l'università e sul patto di sistema con le parti sociali.